Appuntamento CNA 28 gennaio all'hotel Donatello di Imola, la bottega delle idee, un progetto che viene presentato oggi agli imprenditori presenti qui in sala. Ne parliamo con il Presidente di CNA Imola, Paolo Cavini, perché avete messo in campo questo progetto? Abbiamo ideato questo progetto innanzitutto per creare un laboratorio di idee, l'abbiamo chiamato bottega perché noi come artigiani e come commercianti partiamo dalla bottega. L'abbiamo creato e vogliamo che questa nuova piattaforma sia integrata nel nostro sistema CNA, quindi sarà alla disposizione sia della CNA regionale e della CNA nazionale, quindi fare un progetto integrato in tutto il sistema CNA. Quali saranno gli associati coinvolti? La globalità oppure è un progetto che si rivolge prevalentemente ai giovani? No, è un laboratorio, quindi essendo un laboratorio è orientato verso tutte le fasce, quindi dall'imprenditore, piccolo, medio, grande che sia, al pensionato, ma anche vogliamo rivolgerlo ai giovani e anche ai giovani che attualmente studiano, quindi anche agli studenti, perché possono avvicinarsi al mondo dell'impresa, capire che cos'è l'impresa, l'impresa può essere qualcosa di importante poi per loro perché un domani possono essere imprenditori, ma al tempo stesso possono essere anche parte attiva di quell'impresa e quindi le maestranze che le nostre imprese hanno sempre bisogno. Oltre alla presentazione del progetto oggi c'è in qualche modo anche una lezione numero uno, una lezione che parla di fare team, fare squadra. Beh sì, anche in questi giorni nella stampa nazionale l'importanza di essere grandi, di essere o comunque in delle filiere importanti e quindi creare il team è l'inizio per poter avere poi successo. Abbiamo pensato che questa sera con questo esperto di team, quindi un coach importante, possa essere sicuramente qualcosa di stimolante. Insieme al direttore di CNA Imola, Ornella Bova, cerchiamo di capire come si svilupperà questa bottega delle idee. La bottega delle idee è un progetto dove abbiamo pensato di mettere insieme laboratori, progetti di formazione e di informazione dei nostri imprenditori. Si articola in diversi contenitori dentro i quali ogni contenitore è dedicato a una categoria di persone. Ci sono lezioni d'impresa che è il contenitore sul quale puntiamo moltissimo. È diretto ai nostri imprenditori che avranno una veste diversa, a volte docenti in aula e a volte allievi. Poi c'è una sezione dedicata a viaggi e cultura, scoperta del territorio. Abbiamo delle collaborazioni importanti per quanto riguarda viaggi e cultura con Imola Faenza Tourism Company. Per quanto riguarda lezioni d'impresa abbiamo e ci accompagneranno collaboratori importanti, imprenditori importanti associati a CNA. C'è la sezione dedicata alla formazione e informazione. Questa è una sezione più trasversale, dedicata non soltanto agli imprenditori, ma anche ai cittadini, ai pensionati, ai lavoratori, agli studenti. Una sezione dedicata agli eventi, dove riproporremo quelli che sono stati gli eventi importanti di questi ultimi anni di CNA. E la vetrina delle botteghe, dove pubblicheremo le proposte, le promozioni, la pubblicità che i nostri imprenditori vogliono mettere al servizio di tutta la cittadinanza. Oggi, come ricordavamo anche con il Presidente Cavini, si parte già con una lezione, anche se questa è un po' la vernice di questo progetto, la presentazione, un numero zero. Ecco, poi oltre a questa prima lezione dove si parlerà di team, di fare gruppo, ce ne saranno altre? Ci dà qualche argomento sulle lezioni, per esempio, rivolte agli associati di CNA? Allora, innanzitutto la presenza di Andrazzorgi è una presenza importante perché questo progetto, come potrete vedere, è un progetto di gruppo. È il lavoro di squadra, è il lavoro di una squadra dove non c'è solo CNA ma ci sono gli imprenditori. I corsi di formazione nel quale coinvolgeremo gli imprenditori sono corsi anche di team building, capacità di integrare, di lavorare insieme ai propri dipendenti creando un ambiente sereno. Ovviamente è un percorso difficile o facile a seconda delle dimensioni dell'azienda, però ci saranno anche lezioni di welfare, welfare aziendale, se ne parla tanto in questi ultimi anni. Parleremo di ambiente con gli imprenditori. Gli imprenditori subiscono a volte normative impegnative dal punto di vista economico, tipo quella sulla tassa, sui rifiuti e quant'altro. Bene, noi spiegheremo come smaltire correttamente i rifiuti sia indispensabile creare un ambiente pulito per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Quindi veramente un percorso dove non solo di conoscenza di se stessi ma di conoscenza del territorio che ci aiuti a vivere meglio. Quante saranno queste lezioni? Le lezioni, considerando che i nostri imprenditori sono impegnati ovviamente nella loro attività, avremo circa una lezione al mese. Quindi li impegneremo per qualche tempo, faremo delle trasferte fuori provincia, ci recheremo presso CNA Rimini, con il quale abbiamo questa collaborazione, presso CNA Piacenza. Andremo a visitare imprese associate alla CNA di Rimini e alla CNA di Piacenza perché vogliamo che i nostri imprenditori si conoscano, creino rete e vedano nell'associazione un'opportunità. E poi ci sono, come ricordava in apertura, anche delle serate o degli incontri open a tutta la cittadinanza. Questo perché? Questo perché? Perché si vuole sensibilizzare su temi importanti. Saremo partner di un'iniziativa che riguarda l'ambiente, ci sarà un momento di formazione che riguarda sia la persona che l'imprenditore. Ci saranno, riscopriremo e insieme a Ecipar, il nostro ente di formazione di cui siamo soci, faremo dei corsi dedicati al cinema. Voi sapete che la Regione Emilia Romagna ha stanziato delle risorse perché punta veramente sul cinema, come opportunità per le imprese. Noi organizzeremo sul territorio dei corsi indirizzati a corsi di macchinisti, di scenografia perché vogliamo contribuire a uno sviluppo del territorio anche creando imprese diverse da quelle che sono il nostro business, il nostro marchio d'eccellenza che è la meccanica. Stare insieme vuol dire anche familiarizzare. In questo senso vanno le vostre iniziative sui viaggi? Assolutamente. Stamattina parlando con un imprenditore mi ha detto come lo possiamo definire questo progetto? Un workshop, un matching, un networking? E ho detto utilizza pure tutti gli inglesismi che vuoi. Per noi la nostra missione è farsi conoscere, far conoscere le nostre imprese, aprire un dialogo, aprire relazioni e rapporti commerciali. Per noi è indispensabile perché se le imprese dialogano riescono a crescere, a supportarsi e a realizzare progetti comuni. Andrea Zorzi cura la relazione di questa prima pillola di formazione che parla sostanzialmente dell'importanza del team. Per essere squadra occorre la forza del gruppo. Andrea Zorzi naturalmente lo conoscete tutti però sappiate che è un giocatore che ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni, un giocatore di volley che in carriera ha vinto praticamente tutto, un argento olimpico, due ori mondiali. Insomma qua chi meglio di te può parlare di team? Sì il motivo infatti della mia presenza è legato proprio alla mia esperienza come pallavolista. In questo senso la pallavolo è uno sport interessante perché è l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare la palla. Perché non puoi toccare la palla due volte consecutive. Quindi l'idea della collaborazione non è una scelta, è un obbligo. Ecco perché a volte è interessante usare la pallavolo anche in diversi ambienti come quello aziendale per raccontare come per davvero qualche volta sia necessario, non c'è altra scelta se non passare la palla e quindi collaborare. Questa è un po' la chiave per fare sì che in un mondo nel quale il rischio di individualismo ancora molto alto ci si ricordi che da soli nella pallavolo non si può fare nulla, ma in tanti luoghi si può fare veramente a poco e quindi la collaborazione è una scelta importantissima. Abbiamo visto anche a proposito di team, non bastasse questa cosa che appena detto sul volley, sulle squadre di pallavolo, questo regolamento, l'abbiamo visto anche sul palcoscenico e anche qui c'è un lavoro di team che hai fatto come attore. Sì, è stata un'esperienza imprevedibile nel senso che mai avrei immaginato di finire su un palcoscenico, anche se è un'esperienza bellissima che dura ormai da sei anni. In questo caso è una collaborazione un po' diversa, ma certamente legata al fatto che anche sul palcoscenico si tratta di passarsi non la palla ma passarsi il copione, le battute, ragionare con i propri compagni di viaggio. Quindi è una grande esperienza. Io davvero credo che in qualche modo sia importante in ogni ambiente ricordarsi che il massimo grado di collaborazione possibile è ciò a cui tendere. Dopodiché in alcuni sport è obbligatorio. In altri sport non è obbligatorio, però davvero l'idea è pensare agli altri come un partner, come un compagno, perché da soli si combina poco. Stasera la platea sarà di imprenditori. Che cosa hai preparato per loro? Allora, ormai da un po' di tempo si è abituati a usare testimonianze sportive, non solo per applicarle anche ad ambienti aziendali. Ora, io credo che questa cosa possa essere interessante anche se esistono grandi differenze tra il mondo dello sport e il mondo dell'azienda. Non credo siano realtà perfettamente sovrapponibili. Ciò che può essere utile però è che lo sport, nella sua natura semplice, è fatto di regole molto chiare, nella parola o la parola è dentro o è fuori. È punto o non è punto? Ora, questa sorta di semplicità permette di riconoscere alcune dinamiche relazionali molto più facilmente. Questa è l'opportunità che un imprenditore può avere, vedere cosa accade in un mondo semplificato e capire come quelle relazioni positive possono essere riportate in un ambiente un po' più complesso. Diciamo così, se la pallavolo e il mondo dello sport è un mondo in bianco e nero, il mondo e la vita in generale sono tanti toni di grigio, ma cercare la chiarezza è un tema importante in ogni ambiente. Quindi, invece che concentrarci sulle differenze che ci sono tra sport e azienda, capire quali sono alcune metodologie, alcune pratiche che possono essere applicate in entrambi i campi. Non è la prima volta che vengo agli incontri di questa associazione, della CNA, sono molto esperti loro nel far rete, nel far interagire realtà del territorio per farsi conoscere, per mettersi in relazioni, per costruire qualcosa di nuovo, utile anche per la città. Quindi la bottega delle idee è questa già una buona idea, insomma? Sì, è già una buona idea, è un punto di partenza. Sono incontri mensili che organizzano e siamo contenti quando in realtà come associazioni di categoria li organizzano per gli imprenditori ed è un momento molto interessante.